lupi che attacca con a ciabatti che potrebbe concludere lo faccio avanti gran risposta di bartoletti e attenzione ancora a pinelli che riesce a andarsene da solo contro tutti i continuano ad avanzare in sinistro gran parata calcio a otto dei rossi prova a liberarsi alla media distanza dei rossi sfera controllata e un miracolo di ricardo nega in 4 a 1 a cancaterra diceva adesso duca vada sul destro grande conclusione e miracolo miracolo del portiere del funus attenzione ciavarella in mezzo al campo avanza ciavarella serve vanaglen davanti alla porta vanaglen uscita di cicchitano